Sono Mario Cipollone, leader per Rewilding Apennines e volunteer per Salviamo l'Orso. L'Italia è considerata uno dei dei paesi più biodiversi in Europa e l'Apennines è un hotspot. Qui abbiamo diversi specie endemici, come il Marsican Brown Bear, un simbolo di mia casa, Abruzzo. Per noi, i bambini sono il nostro carattere culturale e nazionale, e hanno proprio tanto diritto per la terra come noi. Il Marsican Brown Bear è criticamente endangere, con solo una popolazione di circa 60 individui. Il mio lavoro è tutto per creare le condizioni ecologiche e sociali per i bambini di crescere. C'è molto lavoro pubblico di lavoro per fare, con una popolazione così piccola, ogni dettaglio è precioso. In terreni come questo, può essere difficile da monitorare le specie. Il mio scopo di Leica e le binoculari sono cruciali a questo lavoro. Mi permettono di osservare da distanza e minimare i disturbi. E la alta qualità dei prodotti mi permettono di notare i dettagli che mi aiutano ad identificare ogni individuo che ho osservato. Come un bambino, sempre eravamo nel paese del centro dell'Apennines. Oggi, lavorando per proteggere la biodiversità di questa regione, dove ero e dove vivo, rendere un luogo più ampio per aiutare le comunità e le comunità locali mi rende molto orgoglioso. è una reale domanda, ma mi faccio il mio sogno di mio sogno come true. per aiutare le comunità locali Grazie.